Vogliamo capire la verità e la domanda è, rispetto ad esempio al MES, quanto era difficile capire la verità e quanto la politica ha giocato sul dare due versioni diverse che rendessero impossibile la comprensione della realtà? Sono stati straordinari colleghi di fanpage che hanno intervistato Salvini sul MES e le dichiarazioni di Salvini che erano dei borbutti incomprensivi, perché non sa nulla notariamente di queste cose, lui pensa alle grandi strategie politiche, dimostrano appunto che di un meccanismo che tra l'altro non è facile da comprendere, Gli stessi leader che se ne occupano facendo campagne per abolirlo, sanno pochissimo, uno dei problemi che abbiamo, ma ovviamente l'informazione ci mette del suo, è che non si riesce mai a spiegare bene qual è il punto, perché diventa tutto uso politico. No, peraltro diciamo cadendo in una contraddizione fortissima, perché la politica ci dice che questo è un tema fondamentale per le vostre vite, e poi ci dice anche che non ve lo spieghiamo, perché io dico una cosa e l'altro dice il contrario. Non ve lo spieghiamo e lo usiamo politicamente a favore o contro, a secondo delle... e quindi anche qui.